dopo essersi persi di vista per ben 25 anni non hanno resistito ad abbracciarsi sulla banchina olimpica del porto ischitano l'ex calciatore del napoli dell'ischia pietro puzzone e l'icona del calcio isolano franco in pagliazzo per tutti il mitico taratà in pochi minuti hanno percorso i ricordi dell'anno in cui puzzone militone lì schiesola verde nel campionato 1989 90 l'ultimo della sua carriera franco in pagliazzo un piacere rivedere pietro dopo tanti anni sicuramente dietro è stato un carissimo amico abbiamo trascorso un anno insieme bellissimo anche se poi quell'anno non andò bene perché eravamo una squadra forse non all'altezza oppure eravamo troppo rabberciati in alcuni periodi dell'anno però con pietro mi sono divertito per un anno intero perché proprio un ragazzo di cuore un ragazzo generoso un ragazzo che faceva gruppo è stata un'annata trascorsa bene per quello che concerne la vita di tutti i giorni però quel campo ha detto che non eravamo forse all'altezza dietro che ricordo conservi della tua permanenza ischia trovato il capitano in pagliazzo che è stata una persona esplicitissima primo giorno mi ricordo benissimo andando a mangiare tutti insieme con la squadra poi andammo a giocare una partita di sera con franco il bagliazzo è la prima morale che ebbe da mister rampone prima prima partita con la torre se non mi fece giocare perché il mal di pancia ma il stomaco partendo da napoli e poi sicuramente dopo la partita con la ternale perché era una grande partita abbiamo perso con la partita lì e poi franco è stato un uomo spogliatore un uomo non essere un uomo di principio un gran bel capitano franco taratà non capitano un uomo un grande uomo un capitano è proprio molto poco quando è uomo ricordo molto benissimo mister Fofò il nostro massaggiatore Nappi Billone una squadra che era Odici di Baia Fusco Fusco di Baia è una bellissima squadra Fabrizio 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 pure fa davvero immenso piacere vedere Pietro essere rinato dopo un periodo di grande difficoltà vissuto negli anni scorsi e per quanto ci riguarda ci fa altrettanto piacere essere riusciti a rimetterlo in contatto con i suoi ex compagni di squadra ex calciatore del napoli Pietro Pusone ha vissuto da protagonista i fasti dello scudetto Vindogodiego Armando Maradona e con cui a dimostrazione della loro straordinaria ed unica generosità un giorno organizzò ad Acerra una partita di beneficenza a favore di un bambino malato scesero in campo contro la volontà della società calcio napoli su di un terreno fangoso diventato un pantano a causa della pioggia rischiarono di infortunarsi di rompersi le gambe ma non si risparmiarono e sotto la pioggia battente diedero spettacolo per 90 minuti al solo scopo di ristituire il sorriso ad un bambino malato una storia da libro cuore come i cuori estremamente generosi di Maradona e Pusone e Pietro porta Diego perennemente nel cuore e non sfugge a nessuno la mascherina che indossa con sopra stampato il volto del pipe d'oro e la medaglia che al collo raffigura Maradona naturalmente di Pietro si ricorda molto anche gli anni di Maradona a Napoli l'amicizia con Diego ero Pietro? Diego quando sono venuto qua nel 1984 quando lui è arrivato siamo entrati in un'amicizia a livello come ho incontrato invagliati dal mondo subito sono scostato a fare questa amicizia con Maradona abbiamo vissuto delle cose benissimo fuori dal campo e dentro al campo purtroppo adesso non c'è più e abbiamo vinto lo scudetto noi quando ha vinto il secondo scudetto andammo a fare la partita a Pozzuoli di ricordi con la Pusolana e siamo rientrati a Napoli. Il salto ad ischia di Pietro Puzzone è stata anche l'occasione di incontrare vecchi amici con cui scambiare due parole e ricordare i tempi andati. State raccontando qualche aneddoto degli anni passati? Andavamo a scuola a Procida con il mistero in bagliazzo da lì andavamo a fare allenamento a Pozzuoli con la mitica Pudolana che c'erano sei giocatori di ischia che giocava il mitico Carosella, Buonanima, lui, Aurelio Ricci, Cortese di Ombri, Raffaele Grimaldi, Getto Mazzolino. Dopo tanti anni hai avuto il piacere di avere Pietro Puzzone a prendere il caffè? No, è solo un piacere. Prima di salutarlo abbiamo consegnato a Pietro Puzzone una sciarpa offerta dal club Napoli Isola d'Ischia. Pietro Puzzone, questa è la sciarpa di cui ti omaggia il club Napoli Isola d'Ischia di cui è presidente Domenico Patalano. Oggi non è potuto essere qui perché aveva già un altro impegno, però ci ha tenuto che io ti consegnassi questa sciarpa del club Napoli di Isola d'Ischia. Grazie al club Napoli di Isola d'Ischia, un saluto soprattutto al signor Patalano, un saluto di Isola d'Ischia a Napoli. Speriamo presto. Vai Pietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.